Il programma di accelerazione di iLock Your Ability è stato molto importante per la nostra start-up che era stata creata da pochi mesi ed eravamo in un momento strategico in cui dovevamo sviluppare una go-to-market strategy e tutte le parti business che i coach e il PoliHub ci hanno aiutato a sviluppare e la collaborazione con la BB è stata veramente importante perché ci ha messo in contatto con potenziali clienti e abbiamo sviluppato collaborazioni che potranno andare avanti anche in futuro. Grazie a tutti.